Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti Allora, oggi andiamo a vedere visto che mi è stato richiesto cosa ho dentro il mio portagioie Allora, questo l'avevo preso su Amazon vi lasciamo qua nella i delle info il video se magari qualcuno se l'è perso e l'avevo preso su Amazon c'era anche, mi sembra, in nero se non mi sbaglio allora, si apre così praticamente ci sono le due levette e poi guardate così allora, qua c'è lo spazio per gli orecchini io qua l'avevo già tolto un po' ma poi l'avevo messi da quest'altra parte qua c'è lo specchio ciao qua sotto abbiamo lo spazio per gli anelli orecchini e collane allora, partiamo da qua allora, qui ho due anelli delle jewel candle se vi ricordate che le prendevo prima sono due anelli che mi erano usciti appunto dentro le candele questa è la fedina tra virgolette che mi ha arrivato Marco quando ci siamo conosciuti questo mi sembra pure un anello delle jewel candle che mi era uscita appunto dentro la candela e qua partiamo con gli anelli di Pandora abbiamo il trilogy questo qua con le spighe fuori produzione che ho preso su subito.it mi pare l'anello della pietra natale questo è l'anello di febbraio di questo mese esatto preso a Serravalle anche fuori produzione questo è un altro anellino fuori produzione che scambiai con una ragazza sui gruppi di facebook da una parte è così e dall'altra è così poi nell'affiocco si è visto sempre abbastanza spesso nei video passati cosa questo? no un affiocco ah questo qua si per io lo portavo poi c'è questo qui che mi pare si chiama cuori intrecciati se non sbaglio si è fatto ricciola poi abbiamo questo con l'infinito che mi pare sia fuori produzione anche lui se non sbaglio questo qui è stato il mio primissimo acquisto in assoluto di Pandora ragazzi questo anello ha la bellezza di due anni e mezzo può essere? si eccolo qua si è risposto da sola poi abbiamo questa fedina fatta a V tipo sotto specie di cuoricino forma e poi abbiamo le due tiare questa è in argento e questa è in rose allora da questa parte c'è vabbè la scatolina dei petit che io la tengo qua per magari se voglio cambiarle ok qua c'è lo spazio per gli orecchini qua abbiamo questa che è la collana col mio nome che si è tutta intrecciata dovrei dovrei poi aggiustarla ma vabbè questa qui in acciaio col mio nome vedete ok poi qua mamma mia aiuto si è intrecciata tutto abbiamo gli orecchini però non sono di Pandora ma sono delle jewel candle anche loro trovate nelle candele ok questi invece poi possiamo Daniel Wellington esatto abbiamo Daniel Wellington i due anellini questo qui in silver e questo qui in oro rosa in acciaio ragazzi poi qua abbiamo un charmino della collezione essence di Pandora che non esiste più sfaccettato questo è il cuore amore ci sta scritto se non sbaglio amore si dovrebbe esserci scritto qua e poi qua abbiamo un gommino di Pandora che vi danno in store se le richiedete gratuitamente però a me questo qua in realtà mi è stato dato ma non mi fa granché mi servirebbe quelli in silicone vedrò se trovarli poi non vedete niente ragazzi perché ci metto la collana col medaglione che al momento sto usando comunque qua di solito c'è la collana allora c'è il cassetto che diciamo che all'inizio quando è stato preso il portagioia non era così ma c'erano dei divisori però io le ho tolti allora questo è un sacchettino vuoto perché praticamente questo bracciale qui quello rose che lo metto qui nel momento in cui non lo uso ragazzi io sono maniacalissima Marco lo può dire maniacalissima con i bracciali e qui ho quello praticamente diciamo fatto un bracciale delle favole l'ho chiamato fatto così che in realtà qua ci sono le clip magnolia ma in realtà ci vanno queste qui che al momento sto usando e poi ho il mio bracciale di Natale che al momento ci sono solo questi quattro charm che appunto userò a Natale ultimo cassetto abbiamo questi tre charm pendenti che al momento non hanno una collocazione quindi li ho messi qua diciamo li chiamerei charm dei ricordi perché comunque sì allora questo qui è stato il mio primissimo charm di Pandora sarebbe la tortina la fetta di torta di compleanno di compleanno colorata proprio ragazzi questo è stato il mio primissimo charm che Marco mi ha regalato appunto per il mio compleanno questo è ala di protezione mi pare si chiami pitono che qua ha il cuoricino d'oro vedete una specie di angelo esatto questo qui l'ho dedicato ai miei nonni i mezzi comunque non ci sono più mentre questo ricordo di Roma quando siamo stati a Roma appunto per chi non lo sa vabbè vi lasciamo poi tutti i video qua sulle delle info di quando siamo andati a Roma a incontrare Martina se ve la ricordate del canale Martina che purtroppo non ha più esatto perché sono diversi youtuber che ormai purtroppo esistevano ma non esistono più tra cui lei è una di esse qua abbiamo la prechiusura che è l'erciata si è l'erciata ragazzi l'ho strausata poi qua abbiamo quest'altro sacchetto che mi avanza nel caso ci metto bracciali charme qualche sia questa qui è la chiave del portagioie se magari qualcuno lo vuole chiudere e poi dentro c'è un altro sacchettino per gli anelli insomma quello che sia qui abbiamo un altro anellino delle jewel candle una catenina di marlù vuota anche questa si può utilizzare passepartout per metterci su qualsiasi cosa quella lunga e qua abbiamo un tiffany fake questo qua l'avevo preso su aliexpress pagato tipo 2 euro ma non ve lo consiglio perché si apre ogni 3x2 ragazzi quindi l'ho lasciato qua e boh questo è quello che io ho aspettate che facciamo così che è più carino quello che io ho dentro il mio portagioie ragazzi ditemi sotto nei commenti se vi piace come l'ho allestito diciamo e lo apro 300 volte al giorno perché comunque ho anche questi bracciali della Daniel Wellington che poi inserirò dentro e niente ragazzi questo è quanto cioè tipo che perde 10 ore al giorno solo per questo comunque io ci tengo a ste robe ragazzi quindi un valore per cui mi sembra giusto eh bene ragazzi un pollice in su se vi è piaciuto il video se non siete iscritti al canale iscrivetevi se vi fa piacere e noi come sempre ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao